Nella tarda serata di domenica è stata segnalata la presenza di due uomini all'interno dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, precisamente nel Dipartimento di Ingegneria. È arrivata la chiamata ai carabinieri, che giunti sul posto hanno sorpreso i due individui darsi alla fuga dopo aver abbandonato il registratore di cassa del bar dell'Università. Uno dei due, un diciottenne, mentre scavalcava una recinzione, è stato bloccato dai carabinieri, mentre l'altro è riuscito a fuggire.